Salve a tutti. 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 Il Signore Gesù dunque dopo aver loro parlato fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Salve a tutti. 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 stati con Gesù. Si comprendeva, si comprendeva in pratica che Gesù era ancora con loro, sebbene era già andato in cielo e i discepoli venivano accompagnati dai segni. Perché chi crede in Gesù e ci crede per davvero vive per Gesù. Credere in Gesù significa credere che lui è morto per i nostri peccati, ma significa anche che uno, siccome crede in Gesù, vive per lui. C'è un passo che dice uno solo morì per tutti quindi tutti morirono affinché quelli che vivono non vivono più per loro stessi ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Allora, se Gesù disse andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo, cioè la buona notizia, e la buona notizia è che uno solo morì per tutti, che Gesù morì per te. Allora, si è chiamati chiaramente a credere questo, perché Gesù disse andate e predicate l'Evangelo, la buona notizia, ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. E poi disse questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome, eccetera, eccetera, e accadono delle cose. E ci sono i segni della sua presenza con quelli che avranno creduto. Allora è stabilito che Dio onora quelli che lo onorano e che ci saranno e ci sono i segni della sua presenza verso quelli che avranno creduto. Ma, talvolta, uno non capisce bene cosa è il credere. Credere significa credere che Egli è morto per tutti, è morto per me. Ma nello stesso tempo implica il fatto di vivere per Lui, perché c'è una nuova vita. C'è la nuova nascita. Si nasce di nuovo, come rabbia la meretrice, credette in Dio. E accettò di essere parte del popolo di Dio. Accettò le regole del popolo di Dio. Ci fu, come dire, una nuova vita per lei. Allora, uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Se uno solo morì per tutti, bisogna capire che è grazie a Gesù che io ho la salvezza, ho una nuova vita. Perciò, è grazie a Gesù, e siccome è grazie a Gesù, uno rinunzia a tutto. Perché è scritto, uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono affinché quelli che vivano non vivano più per loro stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Si accetta di essere parte del regno di Dio. Popolo di Dio. Popolo che ha come capo Gesù. Allora, volevo leggere il basso che si trova nel Seconda Corinzi. Capitolo 5, versetto 15. E che egli, cioè Gesù, morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Rabbe la Meritrice, credete veramente, però con il suo credere cambiò nazione, divenne, fece parte del popolo di Dio. Accettò di vivere una nuova vita. Qui l'Apostolo Paolo dice, infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Allora, innanzitutto, già qui dice una cosa, l'amore di Cristo ci costringe. Allora, questa vita nuova è vivere per Gesù. perché è detto affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Allora, a questo punto qui, è chiaro che Dio onora quelli che lo onorano. È chiaro che Dio onora quelli che avranno creduto. Perché i discepoli di Gesù, quelli che credevano in Gesù, non credevano in se stessi, ma credevano in Gesù. Allora, quelli che credevano in Gesù, Gesù li onorava. Allora, quando Gesù disse andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo, la buona notizia ad ogni creatura, la notizia è questa, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Uno riconosce che la sua vita era degna di morte e che Gesù morì al tuo posto e se Gesù morì al tuo posto tu meritavi di morire e tu, credendo in Gesù, tu rinunci alla tua vita e accetti di vivere la vita nuova. Accetti di vivere per Gesù e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Uno accetta di vivere per Gesù. Accetta di camminare con Gesù. E facendo ciò, credendo a ciò, credendo che Gesù è morto al tuo posto e che tu sei morto e che ora hai una nuova vita da vivere per Gesù, Gesù ti onorerà dei suoi segni. Sarà con te. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Gesù sarà con te e sarà lui a far vedere agli altri che tu gli appartieni e che lui ti difende e che lui benedice il tuo operato. ti farà essere di benedizione per gli altri perché c'è la sua presenza con te. Potrai essere di guarigione per gli altri. Potrai essere di benedizione per gli altri. Della benedizione che viene dalla sua presenza. Della benedizione che è chiamata i segni che lui opera perché si veda la sua presenza. la manifestazione dello spirito che è utile. Rileggo il passo che si trova in Marco capitolo 16 anche se prima lo citava anche a memoria. E quelli cioè discepoli se ne andarono a predicare dappertutto. E il Signore operava con loro. Il Signore operava con loro. era il Signore che operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. La cosa interessante è questa che il Signore operava con loro. Era insieme con loro. domanda ma quel Signore che operava con loro è andato via ora? Non c'è più? E il Signore operava con loro confermando la parola con i segni. confermando la parola cioè loro predicavano e Gesù operava dei segni confermando la parola. Però possiamo dire che i Suoi discepoli avevano realmente creduto in Gesù. Avevano veramente rinunciato alla propria vita. difatti Gesù prima quando parlava ai Suoi discepoli diceva che se uno non rinunciava a tutto non poteva essere suo discepolo. Gesù predicò in questa maniera. Disse che se uno non rinunciava a tutto non poteva essere suo discepolo. E i Suoi discepoli probabilmente credettero allora a Gesù. credettero di dover rinunziare a tutto e ci rinunciarono. Allora credettero veramente in Gesù. E Gesù dopo della sua morte dopo della sua risurrezione dopo della sua dipartita qui viene detto che il Signore operava con loro. Il Signore operava con loro. Poniamoci ora il quesito ma ora il Signore non opera più con i Suoi? Allora se il Signore non opera non opera con quelli che non hanno creduto in Lui non opera con quelli che non hanno rinunziato alla propria vita ma vogliono vivere per loro stessi. Però se uno accetta di vivere veramente per Gesù se uno rinunzia alla propria vita e accetta di vivere per Gesù allora forse forse Gesù opererà e il Signore operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano se qui viene detto che il Signore operava con loro ora ha smesso di operare dobbiamo operare soltanto noi qui sulla terra senza di Gesù allora a me Signore mi faceva comprendere questa mattina che forse forse se noi non vediamo i segni della sua presenza è forse forse perché non crediamo ci manca il nostro credere perché se c'è il nostro credere in Lui il nostro unirci veramente a Lui Lui ci onorerà con i suoi segni con la sua presenza questo penso che il Signore cercava di farmi comprendere a me questa mattina che se qui viene detto il Signore operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano era il Signore che operava dei segni se allora il Signore non opera dei segni è perché ci manca il credere è perché uno non crede veramente in Gesù non rinuncia alla propria vita e non accetta di vivere per Gesù i discepoli di Gesù avevano veramente rinunciato alla propria vita e vivevano per Gesù e Gesù li onorava facendo vedere che lui era con loro come anche rabbia la meritrice ebbe una protezione potente ma lei aveva rinunziato la sua vita aveva accettato di essere con il popolo di Dio e nel popolo di Dio era al sicuro era protetta e il popolo di Israele in quel tempo poteva venire essere attaccato dai nemici ma vi era la difesa allora rileggo questo passo questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio scacceranno i demoni gli israeliti quando credevano in Dio che erano veramente uniti a Dio scacciavano i loro nemici poi qui dice parleranno in lingue nuove e difatti i discepoli di Gesù parlarono in lingue nuove per essere di benedizione a quelli che erano presenti che erano stranieri che parlavano una lingua straniera e i discepoli di Gesù iniziarono a parlare lingue nuove per essere di benedizione per gli altri prenderanno in mano dei serpenti e anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male c'è una forma di protezione che Gesù dava e questi segni si vedevano imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno allora c'erano questi segni c'era la presenza di Gesù che operava queste cose e il Signore mi faceva riflettere ma se tu credi veramente in Gesù credere veramente in Gesù significa non vivere per se stessi ma vivere per colui che è morto ed è risuscitato per te perché se tu credi che lui è morto per te al tuo posto cioè ti ha salvato tu accetti di vivere per lui come Rabbe la meretrice ebbe la vita salva e accettò molto probabilmente di vivere per Dio per la volontà di Dio allora il Signore questa mattina mi faceva pensare che se io accetto di vivere veramente per lui lui mi potrà onorare con i segni che potranno accompagnare me cioè la sua presenza con me la sua presenza con me che mi difenderà la sua presenza con me che mi farà essere uno strumento di benedizione per gli altri allora probabilmente le cose non sono così bisogna intenderle non sono così automatiche perché Gesù le ha insegnate così se disse ai suoi discepoli che non era possibile essere sui discepoli se uno non avesse rinunciato a tutto allora non è possibile essere discepoli di Gesù se uno non rinuncia a tutto se uno non rinuncia alla propria vita non è possibile essere sui discepoli allora con la rinunzia a tutto si può essere discepoli di Gesù lo si potrà onorare si potrà vivere per lui ma occorre la rinunzia del proprio essere allora il mio quesito era ma per vedere i segni che ho per Gesù in mio favore cosa c'è da fare allora lì nel Vangelo di Marco viene detto chi avrà creduto questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto allora comprendevo che in questa piccola parola credere il credere implica delle cose implica stringendo sintetizzando implica il fatto di credere che lui è morto per te però se uno comprende questo capisce anche che se lui è morto per te vuol dire che ti ha salvato la vita vuol dire che tu eri perduto eri destinato all'inferno eri morto eri destinato alla morte seconda e che Gesù ti ha salvato allora se tu credi che Gesù ti ha liberato dalla morte ti ha liberato dall'inferno dalla morte dalla morte seconda tu scegli accetti credi in lui credi in lui e vivi per lui perché questo è quello che fecero i primi discepoli infatti l'amore di Cristo ci costringe perché siamo giunti a questa conclusione che uno solo morì per tutti quindi tutti morirono e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivono più per loro stessi ma per colui che è morto e risuscitato per loro allora se c'è questo si vedrà anche la sua presenza ci saranno anche i segni della sua presenza i segni che lui stesso di sua iniziativa opererà e chiaramente le potrà operare in collaborazione con te perché come è detto come è detto e quelli se andarono a predicare dappertutto è il Signore operava con loro allora se uno rinunzia veramente alla propria vita e accetta veramente di vivere per Gesù si realizzera anche il fatto che Gesù opererà con te ci saranno i suoi segni che lui ha deciso di manifestare per mostrare chi sono i suoi però questi segni non ci potranno essere per coloro che non hanno rinunciato la propria vita non ci potranno essere anzi molto probabilmente ci saranno dei falsi segni dei prodigi bugiardi allora stamattina il Signore mi mi ammaestrava e mi faceva riflettere e mi poneva anche un po' la domanda ma come è messa la tua vita tu ti dedichi veramente al Signore perché se tu non ti dedichi al Signore vuol dire che tu non credi in Lui perché se Rabba la meretrice continuava a vivere la sua vita vuol dire che non credeva ma lei accettò di essere al servizio di Dio di essere ubbidiente a Dio allora il credere uno può credere in se stesso oppure può rinunziare a se stesso e credere in Gesù e credendo in Gesù scegliendo di essere con Gesù Gesù che è in cielo sarà anche qui sulla terra e lui dirà parlerà agirà dimostrerà con i suoi segni che uno è un credente allora pensavo che questi segni o poco o molto ci sono nei credenti in quelli che credono perché ci sarà la presenza di Gesù che dimostrerà dirà confermerà che quella persona è sua che quella persona è da lui vorrei far notare anche qui in questo passo che dice il Signore Gesù dunque dopo aver loro parlato fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio io direi questo passo è interessante perché si vede che Gesù è in cielo alla destra di Dio però dopo viene anche detto e quelli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano qui dice il Signore operava con loro non possiamo dire ora che il Signore è soltanto nel cielo e che non opera più ora qui sulla terra saremo stolti diremmo diremmo che Dio non c'è qui sulla terra perché qui invece dice e il Signore operava con loro confermando la parola un altro aspetto che voglio sottolineare che notavo adesso prima mentre che leggevo che è una bella cosa avere a che fare con Gesù è una bella cosa avere a che fare con Gesù perché è una bella cosa avere a che fare con Gesù perché perché è una bella cosa avere a che fare con Gesù io direi che è una bellissima cosa avere a che fare con Gesù perché è scritto così infatti l'amore di Cristo ci costringe l'amore di Cristo questo mi fa pensare mi fa riflettere l'amore di Cristo e mi fa porre delle domande anche chiaramente a me stesso ma quanto io ho conosciuto dell'amore di Cristo ho conosciuto l'amore di Cristo è bello l'amore di Cristo è potente l'amore di Cristo quanto ho conosciuto dell'amore di Cristo e quindi infatti l'amore di Cristo ci costringe l'amore di Cristo ci costringe allora l'apostolo Paolo predicava diceva delle cose perché aveva conosciuto l'amore di Cristo allora mi ponevo questo quesito ma io ho conosciuto l'amore di Cristo oppure si potrebbe chiedere in quest'altra maniera quanto ho conosciuto dell'amore di Cristo oppure si potrebbe dire quanto c'è ancora dell'amore di Cristo che io posso conoscere e questo in questo momento mi fa pensare che forse è buono essere ben disposti verso Gesù è buono essere ben disposti verso Gesù perché si potrà conoscere il suo amore ed è bello conoscere l'amore di Cristo è bello conoscere l'amore a chi non piace conoscere l'amore se talvolta qui sulla terra noi vogliamo conoscere l'amore umano ci fa piacere conoscere se c'è qualcuno che ci ama e che ha un amore limitato non è forse una cosa molto più interessante conoscere l'amore di Cristo allora sono contento che questa mattina il Signore mi ha dato proprio questi pensieri proprio oserei dire già mentre che dormivo ha iniziato a farmi riflettere e mi fa piacere notare il fatto che che è possibile conoscere delle cose molto molto preziose allora ora volevo concludere queste riflessioni perché il Signore vuole poter onorare ma Lui può onorare quelli che lo onorano Lui può onorare quelli che credono in Lui Lui può onorare della sua presenza dei suoi segni coloro che avranno creduto e ho capito e il Signore mi dà di comprendere che credere forse è una parola una parola che forse molto spesso uno non intende bene ma credere significa non credere soltanto che Lui è morto per te ma credere significa anche che è buono che il tuo Io sia morto perché uno solo morì per tutti quindi tutti morirono e che egli morì per tutti affinché quelli che vivano non vivano più per loro stessi ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro allora credere significa anche che c'è una nuova vita da vivere per Gesù con Gesù e per Gesù e in questa maniera ci saranno sì i segni della sua presenza dei segni che sarà lui a operare e che nessun altro può operare dei segni che compirà lui per dimostrare che si appartiene a lui come Dio operava verso il suo popolo e dava di vedere che la forza del suo popolo era una forza molto grande perché era la forza di Dio c'erano dei segni ben chiari della potenza di Dio che Dio era per il suo popolo però Dio manifesta i suoi segni verso coloro che avranno veramente creduto che credono che lui è morto per tutti affinché e uno crede che bisogna vivere la nuova vita per lui e voglio concludere proprio leggendo questo passo e dice è che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi ma per colui che è morto e risuscitato per loro ecco il credere il vero credere è questo qui è che egli morì per tutti l'Evangelo è questo che egli morì per tutti la buona notizia è questa che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivono più per se stessi battezzati dallo Spirito Santo non vivono più per se stessi ma per colui che è morto cioè Gesù è risuscitato per loro e credendo a ciò credendoci per davvero Dio onorerà queste persone con i suoi segni dimostrando che è con loro in Cristo Gesù Amen Prendi la mia vita Prendi la signor e la tua fiamma bruci nel mio uomo tutto l'esser mio vibri per te sì mio signore e divino fonte di vita di pace e amor a te io grido la notte la notte e il dì odi il mio pianto e mi sostie il tuo timore colmo d'oggi d'oggi e l'infinito male guardami signor vieni mia gioia e compito e compito di fe se la notte nera vela gli occhi miei sì la mia stella splendida inzi a me fonte di vita di pace e amor a te io grido la notte e il dì odi il mio pianto e mi sostien il tuo timore colmo d'ogni bene quando signore giunto sarò nella tua gloria risplenderò insieme ai santi puri di cuor per non lasciarti eterno amor fonte di vita di pace e amor a te io grido la notte la notte e il dì odi il mio pianto e mi sostien il tuo timore colmo do nì do nì do nì gloria Grazie a tutti